Sono 45 gli anziani attualmente contagiati, ospiti di 10 RSA della Retino. A fornire il dato, aggiornato a venerdì 12 marzo, è l'Asla Toscana Sud-Est. Si tratta di un report relativo dunque al contagio nelle strutture dedicate alla terza età, la fascia più debole e fragile della popolazione e quindi maggiormente a rischio. Lunedì 8 marzo i positivi erano 35 distribuiti in 10 residenze, martedì sempre 35 ma in 9 strutture, mercoledì e giovedì 44 ancora in 10, quindi si arriva al dato relativo a venerdì con 45 ospiti contagiati sempre in 10 RSA. Da sottolineare dunque come la diffusione fortunatamente sia rimasta stabile. Nell'intera area vasta invece il numero di ospiti contagiati nelle case di riposo è di 81 per 16 strutture coinvolte.